Se, come lo chiami questo raggio di sole che porta calore tra le pareti del tuo cuore e quella pioggia lieve sulla tua finestra, sul mondo così arido di amore? Se soltanto provassi a capire ciò che tiene in vita la tua speranza di vivere col viso illuminato senza quella nebbia che pervade la tua mente, se soltanto aprissi la tua anima a un cuore puro, capiresti cosa significa alzarsi e sapere di essere realmente vivi e non dei burattini del destino.